Focus è l'ideatore di questo progetto, chiama a fianco a sé alcune associazioni cinematografiche e culturali proprio per riaprire questo spazio alla fruizione e restituirlo al quartiere e alla città. Aprire una rassegna cinematografica dal 7 luglio al 24 agosto lo facciamo per fare in modo che tutti i napoletani possano fruire di questo spazio e di questa occasione. È davvero una cosa molto importante riuscire a far partire dopo il Covid un film anche piuttosto leggero, seppur malinconico e quindi siamo veramente felici di riuscire a far non solo vedere in anteprima il nostro film ma di farlo poi circuitare tra arena e drive-in prima in Campania e poi in tutta Italia. Assolutamente, io ho vissuto qua per tanti anni e fare cinema e ripartire dai quartieri spagnoli è qualcosa che ci deve rendere fieri e forti proprio perché possiamo capire che da qua possiamo ricominciare sia a far vedere come nel caso nostro ma soprattutto a realizzare nuove idee ancora più forti e consapevoli dopo quello che è successo. Sì, sì, a tutti gli effetti è una vera e propria reazione che per la verità nasce molto sul discorso del film di Carlo Luglio il dato di Cardellini che non trovava né una sala cinematografica né uno spazio soprattutto nella città di Napoli per dare una dignità a un film con un caso secondo me importantissimo, è un'opera cinematografica come se di rara eccezione quindi è sicuramente una grande reazione con vari fattori ci potremmo inserire dentro per fortuna poi ho incontrato Peppe Colella che lavora con Focus, da lì abbiamo parlato di questa anteprima ed è nata l'idea di un cineforum che durasse quasi tutta l'estate. Grazie 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 Grazie